Un altro dittatore, Rafael Trujillo, esce tragicamente dalla scena politica dopo 31 anni di incontrastato dominio. La Repubblica Dominicana era dominata dalla sua forte personalità e dalla sua ancora più forte polizia. L'America Latina trattiene ora il respiro. Attende con ansia gli sviluppi della grave situazione. Si teme che Fidel Castro, il collega di sinistra del dittatore dominicano, approfitti del caos per tentare un colpo di mano sulla vicina Repubblica. Il momento è altamente drammatico. Su ciudad a Trujillo pesa l'ombra dei barbudos.